Un'altra domenica trascorsa interamente da primatista solitaria. Orgoglio che il Taranto può sfoderare, almeno sino a giovedì prossimo quando si tornerà in campo per il terzo ultimo atto della stagione regolare. Per il momento il girone H del campionato di Serie D sorride ancora agli Ionici, vittoriosi in rimonta su un arcigno Francavilla-Insini davanti ai 9.000 spettatori dello Iacovone. Successo più difficile del previsto per il rosso-blu di Aldo Papagni, sotto di un gol alla mezz'ora del primo tempo, ma capaci di riequilibrare le sorti dell'incontro già prima dell'intervallo con il solito Molinari. Il gol che decide la partita invece arriva ad 8 minuti dallo scadere e lo realizza D'Angelo. Il Taranto dunque continua a vincere, le antagoniste però non mollano di un centimetro, ovvio il riferimento a Matera e Turris, appaiate in seconda posizione a meno 3 dalla vetta, ma anche con una gara in più da giocare rispetto agli Ionici. In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre, tra l'altro, la formazione penalizzata sarebbe proprio quella tarantina messa peggio negli scontri diretti rispetto a Lucani e Campani, che andrebbero invece a giocarsi lo spareggio per la promozione diretta. Solo ipotesi però per il momento. Di sicuro le due vicecapolista continuano a fare sul serio in campo. Il Matera espugna Marcianise con un gol di Pagliarini a metà della prima frazione. La Turris batte un volenteroso brindisi con le reti di Jovinella in apertura e Manzo in pieno recupero. La formazione di Marcello Chiricalo dunque non sfrutta il turno di riposo del Monopoli, sempre quinto in classifica e resta estraneo alla zona playoff. Salvezza diretta più vicina invece per il Biceglie, merito del rotondo successo casalengo ottenuto dai nerazzurro stellati di Praier nel derby contro il Sansevero. Vitone, Zotti e Ceccarelli chiudono i conti già nella prima frazione al Ventura. Gli ospiti accorciano in apertura di ripresa con Covelli degli 11 metri. Lo stesso Zotti poi firma il poker bicegliese e la doppietta a livello personale. L'altro derby made in Puglia della 31esima giornata lo vince il Manfredonia che al Miramare supera con il più classico dei risultati il Grottaglie grazie ad una doppietta di Rafael Carminati. Tre punti d'oro per i Biancocelesti in chiave salvezza diretta. Giovedì dicevamo si torna in campo per il turno infrasettimanale della 32esima giornata. Questa volta sarà il Taranto che resterà a guardare in virtù del turno di riposo. Le antagoniste scenderanno regolarmente in campo. Il Matera ospiterà il Metapontino. La Touris farà visita ad un Sansevero alla ricerca di punti preziosi per evitare i play-out.